Cumuli di rifiuti per strada, scene registrate a Cerignola nel giorno del mercato settimanale a San Ferdinando di Puglia, ma che sono uguali a Trinitapoli e Margherita di Savoia per restare nella zona del nord baresio Fantino, ma anche in tutti i comuni compresi nel consorzio Foggia 4. Scene già viste che sono la diretta conseguenza del nuovo stato di agitazione dei lavoratori della SIA, la società di igiene ambientale che si occupa del servizio raccolta rifiuti nei nove comuni del consorzio Foggia 4. Situazione d'emergenza denunciata in consiglio comunale a Cerignola dal capogruppo del partito democratico Tommaso Sgarro. Nel bilancio consentivo del 2016 c'è un debito di 5 milioni e 800 mila euro del comune ofantino con SIA e alla quale il sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo ha risposto con un'ordinanza affinché venga ripresa immediatamente la raccolta rifiuti. In caso contrario, se continuasse lo stato di agitazione dei dipendenti della SIA, il comune di Trinitapoli affiderebbe temporaneamente il servizio ecologia alla ditta RIS e i costi verrebbero addebitati alla SIA. Situazione fluida ed emergenza anche a Margherita di Savoia dove sono rimasti per strada i sacchetti della plastica e rischiano di non essere raccolti i rifiuti al termine del mercato settimanale del giovedì. I lavoratori di SIA avrebbero incrociato le braccia denunciando difficoltà logistiche che non consentono di svolgere il servizio con standard minimi di sicurezza. I mezzi sono perennemente rotti o incerottati e le ristrettezze di cassa non consentono di provvedere alla manutenzione delle macchine. Sotto accusa anche le troppe ore di straordinario pagate 20.000 all'anno. Quella somma sostengono i sindacati potrebbe essere utilizzata per nuove assunzioni o per il miglioramento di alcuni contratti part time. I lavoratori di SIA assicurano che il servizio raccolta rifiuti può ripartire immediatamente ma servono garanzie sulla sicurezza. Intanto un altro fronte caldo legato alla questione rifiuti è quella delle cartelle salate che stanno arrivando in questi giorni. Se a Trinitapoli c'è chi è già sceso in piazza a Margherita di Savoia è stata annunciata con un passaparola su whatsapp una protesta per venerdì pomeriggio contro aumenti del 30% rispetto alle tariffe dello scorso anno.